Eretta sui pendi di Montegiovi, la torre di Monte Bonello rappresentava un avamposto strategico sull'accesso alla Val di Sieve dal Valdarno Fiorentino e dalle zone interne dell'Aretino. Le prime notizie storiche a riguardo risalgono al XII secolo, quando la casa turrita di Monte Bonello fu donata al sacro eremo di Camaldoli. L'edificio era inserito in un complesso fortificato, di cui ancora oggi se ne intuiscono tracce nei resti murali delle abitazioni civili. Il 16 febbraio 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, tre bombe colpirono questa zona. Numerose case furono abbattute, ma la torre rimase intatta ed ancora oggi svetta sull'intera vallata.